Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a partecipare, Eric, ciao Bomber, ciao ragazzi, oggi siamo qua per il ringraziamento dei 100 iscritti, quindi è uno speciale, 100 iscritti ragazzi, ragazzi, volevo ringraziare tutti quelli che si sono iscritti dopo, ah è vero perché Bomber, perdonami, a quanto siamo? A 100 mi pare 13, a 113 a pochi minuti fa insomma, ragazzi scusate se il video è arrivato in ritardi, abbiamo fatto un po' tardi perché volevamo fare una cosa carina, vero Bomber? Sì, abbiamo messo un po' una cosa particolare, un ringraziamento particolare e abbiamo messo, abbiamo con questo video ci abbiamo messo molto tempo, sì, però c'è da dire una cosa oggi, abbiamo anche messo una cosa nuova nel nuovo video, cosa? Che? La nuova? Intro, ragazzi, spero che io dici, dici, spero che la nuova intro vi piaccia tantissimo, poi scrivete nei commenti se vi piaccia o no, se vi piace o no, giusto Bomber, se vi piace o no, sì, perfetto, noi ci abbiamo, insomma, ci abbiamo studiato, ci è piaciuta e Bomber ha scelto questa intro e devo dire è veramente carina, sì, e quindi? lasciamo al video? Sì, ok, grazie ancora ragazzi, e a dopo, ciao ragazzi grazie a tutti per i 100 iscritti raggiunti grazie a tutti per i 100 iscritti raggiunti grazie a tutti per i 100 iscritti raggiunti Un attimo, grazie a tutti per i 100 iscritti, raggiunti, raggiunti, raggiunti. Grazie a tutti per i 100 iscritti, raggiunti. Raggiunti, raggiunti, raggiunti. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, almeno 20-25 like. Per questo è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!